Vince la 26esima finale, 7-20 agli LVC maschile, la Canottieri Lazio, Valerio Scansalegna In chiusura, guardate già in arrivo anche la gara numero 102, abbiamo velocizzato un po' queste partenze in questa fase Milano in acqua 1, Murcaroli in acqua 2, Augusto in acqua 3, Motoguzzi in acqua 4, Galirate in acqua 5, Elpis in acqua 6, Pulini in acqua 7, Stabia in acqua 8 Canottieri Lazio che riesce a vincere anche il 7-20 agli LVC, quanto credevi in questa vittoria? Beh, io sul 7-20 non sono stato mai molto bravo con le uniche gare che ho fatto, sono arrivato terzo oppure mi sono dovuto ritirare In questo volevo classificarmi bene, sia per me stesso sia anche per il mio circolo, perché fino ad ora non sapevo neanche della vittoria precedente del mio circolo Quindi pensavo fosse anche la prima medaglia che avevo portato Sei stato veramente bravissimo, ci dici un po' qual è la cosa che ti piace di più di questo festival dei giovani? Beh, l'accoglienza di questo posto, l'organizzazione, il fatto che si possano riunire così tanti giovani per questo sport così bello Ma domani tu gareggerai con il compagno che ha vinto prima? Sì, dopo domani con il doppio Occhio perché questo doppio della Canottieri Lazio allora è da tenere sotto controllo Due medaglie d'oro, una Canottieri Lazio scatenata nel settore LVC Complimenti ancora, bella medaglia d'oro, bravo! Sì, dopo domani con il doppio della Canottieri Lazio scatenata nel settore